Ciao a tutti ragazzi, io sono il vostro caro Balazzo Salvatore, scusate se non ho fatto un video, però il telefono è uscito da mia mamma, ora se, allora, ora, scusate se mi giro così, però mi viene, ora i video li faccio sul telefono, cioè ora uscirà la nuova serie, Minecraft Arcor, e forse uscirà pure un libro mio, però che la copertina uscirà, e comunque ho la cover di Glacier Royal, è arrivato il bracciale, come lo vedete, può stare un pochettino male, però, questo è tutto, ci vediamo, ciao!